Ha paralizzato un condominio intero per circa 36 ore, minacciando di voler far saltare in aria la palazzina in cui abita. Ha avuto inizio così il folle weekend di Herald, 37enne albanese residente a Morciola di Vallefoglia, quando nella serata di venerdì, dopo aver cacciato di casa padre e madre, avrebbe rifiutato il TSO richiesto dagli stessi genitori, rinchiudendosi all'interno del suo appartamento. Alla vista dei carabinieri, sopraggiunti al civico 38 di via De Gasperi per il trattamento sanitario obbligatorio, l'uomo, disoccupato e con già noti problemi psichici, avrebbe dato in escandescenza. Dopo aver minacciato di uccidersi e di far esplodere il condominio, le forze dell'ordine avrebbero sin da subito staccato luce gas e fatte evacuare le 16 famiglie residenti nello stesso edificio. Poi è partita la mediazione con Herald, irremovibile dalle sue intenzioni di non aprire ai carabinieri. Ore e ore interminabili, finché l'uomo non ha ceduto domenica mattina. Dopo un giorno intero e una notte passati in casa, attorno alle 9 e un quarto, l'albanese ha accettato la proposta delle forze dell'ordine di far fare una passeggiata al suo cane, un pastore maremmano, che per tutto quel tempo aveva bloccato in appartamento con lui. Toccato nel profondo dalle esigenze del suo amico a quattro zampe, Herald avrebbe richiesto di essere fatto uscire di casa, accompagnare l'animale domestico a fare i bisogni e poi essere lasciato di nuovo libero di rientrare nell'abitazione. Dopo aver notato dal terrazzo alle volanti delle forze dell'ordine allontanarsi, l'uomo è uscito dall'appartamento sicuro che tutto sarebbe andato liscio. A rovinare i suoi piani però alcuni carabinieri in borghese che si erano ben camuffati fermando il 37enne. Ammanettato e portato in ambulanza al reparto di psichiatria di Pesaro, si trova ricoverato dal pomeriggio di ieri senza ancora un chiaro esito del TSO. Trattamento che era stato già fatto nelle settimane antecedenti, il quale aveva però dato esito negativo. Un esito opposto a quello che da tempo i vicini pensavano di Herald, temendo per la loro incolumità dopo le diverse minacce subite ed alcuni gesti che una persona sana di mente normalmente non compie.